Cari amici di Vai Elettrico, buonasera, bentornati sul nostro canale. Oggi parliamo di una figura che sta in mezzo tra tutti i vari operatori della ricarica, una figura che noi non conosciamo in genere, perché conosciamo i brand, le colonine, gli operatori, gli MPS, gli MSP della ricarica, i CPO, però non sappiamo che dietro a questo c'è necessità di una piattaforma che tenga insieme tutti questi pezzi, ma in fondo è l'elemento fondamentale della ricarica perché a seconda dell'efficienza, dell'affidabilità della piattaforma, l'esperienza di ricarica può essere come un calvario, oppure una passeggiata come bere un caffè. Ecco, uno di questi personaggi è qui con noi, è Virta, che è un'azienda di origine finlandese nata nel 2013, ma poi che si è sviluppata in tutta Europa con ritmi di crescita enormi e appunto produce e offre, diciamo, una piattaforma completa che va dall'hardware fino al software per gestire i processi di ricarica. Abbiamo con noi Edward Marciano, che è il Sales Director per l'Italia e intanto gli chiediamo, al di là di quelle due frasette che ho detto io, probabilmente con degli errori, ecco, di spiegarci un po' meglio che cosa fa esattamente Virta. Prego, Edward. Buonasera a tutti e buonasera Massimo. Cioè, pochi errori in sostanza, quindi hai espresso in maniera piuttosto giusta. Cioè, in poche parole chi siamo, cosa facciamo, però sono qua effettivamente per approfondire. Quindi, Virta è un MSP, quindi un fornitore di servizio per la mobilità elettrica in italiano. In parole povere, proponiamo ai nostri clienti un servizio globale per la ricarica dei veicoli elettrici. Quindi, dalla parte hardware, quindi noi ci avvaliamo di partner internazionali, io sono un produttore di colonine, sia C e DC, che andiamo ad installare grazie alla nostra rete di partner a livello locale, se parliamo dall'Italia. E in più, effettivamente, proponiamo la nostra piattaforma software, che noi sviluppiamo da praticamente 12 anni, per il quale abbiamo un'esperienza piuttosto rilevante su questo mercato, perché, se parliamo di effettivamente 12 anni, sono quasi dall'inizio del mercato di VU a livello globale. Quindi, noi aiutiamo... Con Tesla, in sostanza, più o meno. Poco dopo. Mi sa, con la Zoe. Poco dopo, diciamo, piuttosto la Zoe, perché Elon Musk da un po' di anni in più, quindi ha tante esperienze. Comunque, noi approfittiamo di queste esperienze che hanno i mercati nordici, perché siamo finlandesi, quindi, cioè, non vorrei dire però, comunque, il Nord Europa ha tante esperienze in più rispetto al Sud Europa a livello di sviluppo della ricarica elettrica. Paesi come la Finlandia o la Norvegia, nel quale c'è un 100% di market share, sono paesi che hanno tante esperienze, tante soluzioni anche innovative nel mondo della ricarica. Quindi l'obiettivo di arrivare sul mercato italiano è molto semplice, quindi noi proponiamo i nostri servizi, le nostre esperienze, tendiamo ad essere anche il leader di mercato, perché società di 250 collaboratori, con queste esperienze, essendo one-stop shopping per i clienti fleet del mondo della ricarica, sono molto poco in Italia, anche a livello globale, quindi vorremmo effettivamente proporre le nostre competenze, la nostra esperienza anche sul mercato italiano. Ecco, voi siete arrivati in Italia in luglio, quindi in pratica state cominciando la vostra esperienza in Italia, ma è ipotizzabile che avremo anche delle stazioni di ricarica col vostro brand, oppure vi limiterete a fornire la vostra piattaforma, il vostro know-how agli operatori esistenti? Sì, noi non siamo un CPO in se stesso, noi aiutiamo il CPO ad adattarsi di un'infrastruttura di ricarica, di una piattaforma, di un sistema di billing, di rendicontazione, però diciamo che l'obiettivo di Virta, soprattutto sul mercato italiano, è di dedicarsi al mondo del fleet, cioè al mondo delle imprese a livello B2B, diciamo, per aiutare i fleet manager a proporre un servizio di ricarica complessivo, quindi parliamo sia della parte hardware sul piazzale dell'azienda, banalmente, in situazioni di mobilità, perché noi offriamo anche collegamento sulle colonine pubbliche con capacità di roaming molto importante, colleghiamo 500.000 colonine a livello internazionale, a livello italiano abbiamo un'ottima copertura, cioè non è detto che arriviamo un po' tardi sul mercato italiano, che non abbiamo un servizio già pronto, effettivo, siamo già pronti, abbiamo già dei stakeholders con chi collaboriamo sul mercato italiano, abbiamo già dei clienti internazionali che erogano il servizio di Virta a livello italiano, e quindi siamo qua molto pronti con il nostro servizio, però nessuna colonina brandizzata in assoluto sul mercato italiano. Ecco, mi sembra che di spazio ce ne sia in abbondanza, perché ad oggi, diciamo, almeno in Italia, il servizio di ricarica non è proprio esemplare, l'affidabilità, i problemi, noi che viaggiamo in autoelettrica li conosciamo bene. Ecco, che cosa si caratterizza il vostro hub, la vostra piattaforma, il vostro know-how, rispetto a quello che un automobilista italiano si trova davanti, spesso tirando qualche accidente, insomma? Come dicevo, la Virta è un wall stop shopping per l'azienda che ha bisogno di dotarsi di un'infrastruttura di ricarica, quindi noi risolviamo le problematiche di un'azienda che potenzialmente ha già un'infrastruttura di ricarica esistente, però in un infrastruttura un po' vecchiotto, magari non comunicante, cioè il fleet manager non riesce ad ottenere tutta l'informazione, cioè a richiedere il TCO come si dovrebbe fare con la nostra piattaforma, cioè noi offriamo un'esperienza unica, risolviamo i problemi, le complicazioni, tutto quello che dovrebbe occuparsi un facility manager, un fleet manager, proponendo, diciamo, un servizio globale, ossia un'azienda, in situazioni di mobilità con il nostro roaming, e una cosa che viene sempre di più richiesto nel mondo aziendale, da una soluzione di ricarica anche a casa del driver, quindi noi unifichiamo tutte queste situazioni di ricariche e semplifichiamo la rendicontazione di tutti questi eventi di ricarica, sia in azienda, sia a casa del driver, o in situazioni di mobilità con una rendicontazione, una fattura unica alla fine del mese per l'azienda, cioè è un guadagno di tempo, una semplificazione in assoluto. No, anche perché uno degli ostacoli per i fleet manager è quello di calcolare quello che viene caricato fuori dall'infrastruttura aziendale, soprattutto a casa, no? Sì, sì, questo noi siamo talmente, diciamo, operativi a questo livello, siamo in grado di fare anche il rimborso speso direttamente sul conto corrente del driver, fornendo tutte le evidenze, tutte le informazioni al fleet manager di quelle che noi abbiamo fatto come rimborso spesa ed è un servizio veramente comodissimo per i fleet manager in questo caso, anche per il driver, cioè non ci sono più le lamentele, cioè non ho ricevuto il rimborso del consumo a casa, cioè ho consumato qualcosa fuori dalla polizia aziendale, e quindi noi risolviamo queste complicazioni in sostanza. Ecco, quindi abbiamo chiarito che uno dei vostri target sono le aziende, quindi le flotte aziendali, però ci sono tante altre situazioni assimilabili, non so, strutture alberghiere, ricettive, condominio, o grandi appartamenti, parcheggi, eccetera. Voi ovviamente vi occupate anche di questo. Assolutamente, assolutamente. Ti direi, già sto trattando un case di storia a livello italiano, che un partner mi ha chiesto una soluzione per un condominio, anche alle gestioni di livello, cioè delle problematiche legate all'energy management in condominio, perché quando colleghiamo, non so, 50 wallbox all'interno di un condominio, succedono i problemi di disponibilità dell'energia. Ovviamente non si può portare a 200 megawatt il contatto condominiale, se si riesce a fare un contrattino, nel quale noi portiamo anche una soluzione di management dell'energia e ottimizziamo le risorse in questo caso, dando delle priorità e dando un sistema di gestione di chi arriva per prima, a chi ha una capacità di ricarica più importante e gestiamo veramente queste complessità e problematiche legate a dei parcheggi o se no a dei trasportatori, per esempio, che è la situazione abbastanza simile alla situazione che abbiamo sul parcheggio, e quindi il trasportatore, quando arriva, converta anche la possibilità di prenotarsi, di prenotare una sessione ricarica. Se un operatore che fa assistenza, per esempio, ha l'assoluta necessità di avere un veicolo ricaricato una volta che ha finito la pausa di prevenza per ripartire a fare dell'installazione, della manutenzione, quindi noi gestiamo anche queste problematiche con i nostri sistemi, abbiamo addirittura anche dei brevetti, abbiamo un nuovo brevetto della gestione dell'energia per quello. Ecco perché la gestione dell'energia è un altro aspetto importante anche per un'azienda, perché se un'azienda ha una flotta con 20-30 auto elettriche, probabilmente non è che di notte in azienda può ricaricarle tutte contemporaneamente, il bisogno di energia diventa eccessivo, un po' come il condominio, forse anche peggio, perché quelle sono auto che devono avere il 100% alla mattina all'inizio del lavoro. Quindi voi fate proprio consulenza anche sulla gestione dell'energia e quindi anche una consulenza preventiva, cioè il fleet manager può rivolgersi a voi con il problema, io voglio elettrificare la mia flotta, vi do carta bianca, fatemi un progetto. Funziona così? Sì, sì, assolutamente così. Noi prendiamo anche in considerazione l'infrastruttura esistente del cliente, le contingenze a livello di fornitura di energia, dei contratti esistenti, cioè i costi operativi dei contratti e dopo proponiamo una soluzione grazie alle nostre soluzioni di management dell'energia. Lavoriamo anche con i nostri partner a livello locale che sono potenzialmente anche consulenti specializzati nel mondo dell'installazione, ci vuole un tecnico anche a livello di impiantistica per capire un po' l'esistente, se bisogna ottimizzare l'impiantistica, ci sono problemi vari all'interno dei problemi di ricarica, quindi non c'è soltanto la piattaforma, non c'è soltanto la colonina, c'è tutto il back-end, tutta l'infrastruttura elettrica del posto, dell'azienda, i consumi dell'azienda che dobbiamo prendere anche in considerazione, abbiamo anche il sistema di management dell'energia, bilanciando sia il consumo delle autovetture con quello delle necessità aziendali, se c'è un unico contatore, in realtà è un po' più piccolo, a volte ci confrontiamo a questa tipologia di aziende un po' più piccolette che devono gestire con un'unica fornitura sia il consumo dell'azienda sia il consumo delle autovetture sul parcheggio. Ma ci sono anche dei problemi che riscontriamo noi automobilisti della scarsa affidabilità, cioè molto spesso non si riesce a ricaricare perché non c'è la connessione, l'app non funziona al meglio, non viene riconosciuta la tessera, magari per chi ha un RFI card, il riconoscimento non è, e tu resti lì. Ecco, fa parte del vostro lavoro anche risolvere questi problemi, ottimizzare anche questo? Sì, sì, questa è un'ottima domanda Massimo. Sono molto spesso i problemi che riscontriamo a livello driver automobilista che ha una brutta esperienza della ricarica, quindi noi abbiamo diverse soluzioni per dare all'automobilista, al driver dell'azienda, la possibilità di connettersi se c'è veramente un problema legato al funzionamento della colonina, cioè l'obiettivo del software di monitoraggio di VIRTA, cioè di allertare il fleet manager in questo caso, di allertare la società che fa la manutenzione della colonia, diciamo, guarda, attenzione, c'è una colonina disfunzionante e grazie al software, alla piattaforma di VIRTA, usciamo a distanza, potenzialmente a fare un reboot, a vedere qualche che non funziona in questa colonina. Quindi riuscite a fare un controllo di efficienza e fiducia della colonina prima della segnalazione del povero disgraziato che arriva lì e non riesce a caricare? Voi avete un monitoraggio continuo delle colonnine? Quindi sì, la nostra piattaforma dà questa possibilità di farlo, però dopo di questo, a livello operativo, sarà un partner a livello italiano che offre un servizio di monitoraggio e di assistenza dell'azienda. Quindi noi abbiamo dei partner installatore che fanno anche manutenzione di queste colonine attraverso un servizio che viene erogato da questi operatori che sono molto radicati sul mercato dal sud al nord. Si può intervenire, se no, ovviamente c'è un servizio di assistenza di VIRTA con una hotline su quale un driver in situazione di mobilità per esempio ha qualche problema può rivolgersi e viene fatta un'assistenza online in questo caso. Voi è arrivato in Italia quindi già con una rete di partner, già pronti a fornire il servizio e ad attivare tutti i partner che completano il vostro lavoro diretto. Assolutamente, ma questo è fondamentale per VIRTA. Lavoriamo sempre in questo modo perché come VIRTA non potremo mai a livello complessivo avere una rete di dipendenti che danno assistenza, che si spostano come lo fanno i nostri partner locali che sono già attrezzati, che fanno già questo mestiere di servizio. Quindi c'è tutta un'organizzazione, c'è un outline, c'è un livello di servizio garantito, quindi noi ci avvaliamo a queste tipologie di partner locale. Ovviamente c'è tutto un percorso di onboarding di questi partner con la VIRTA Academy e quindi abbiamo un percorso piuttosto importante di addestramento di questi partner per farli diventare tutti gli effetti operatori certificati in VIRTA. Tu mi hai detto che avete già 500.000 colonnine gestibili attraverso la vostra piattaforma e mi puoi dare qualche numero riguardo i paesi dove siete presenti. A me poi interesserebbe sapere, visto che partite da un mondo dorato che è quello dei paesi nordici, ecco, volevo anche un giudizio su di te se è possibile e in che tempi arrivare a quei livelli di efficienza della rete anche in Italia. Sì, questa è una domanda un po' complicata perché purtroppo non dipende da VIRTA in se stesso, non dipende, sono problematiche politiche più che altro che abbiamo ma era una valutazione che ti chiedevo così da cittadino, non so se sei cittadino francese, italiano o filantese in ogni caso vivi qui e quindi vedi che appunto i problemi li sappiamo ma dal punto di vista della tecnologia è possibile? Cioè ci sono degli ostacoli in Italia che impediscono di arrivare a quei livelli di diffusione dell'elettrificazione secondo te? No, personalmente non penso che ci siano questi problemi tecnologici, c'è soltanto una volontà secondo me politica e penso che il mondo del flitte sarà molto importante in questa trasformazione che ci aspettiamo sul mercato italiano. Cioè la cosa positiva per me è che l'Italia ha questa capacità di arrivare allo stesso livello degli altri paesi in maniera molto più veloce a volta perché abbiamo tutta la potenza degli operatori italiani che comunque hanno comunque parecchia esperienza a livello con le linee pubbliche cioè la capillarità in quelle che abbiamo sul mercato italiano non è così scarsa rispetto a quelle che abbiamo in altri paesi sto parlando ovviamente del rapporto tra colonine e veicoli elettrici esistenti sul mercato sì c'è un un limite che è quello ovviamente della diffusione dei veicoli elettrici se la diffusione non aumenta è difficile che si possano fare grandi investimenti sull'infrastruttura di ricarica però diciamo non ci sono limiti per sviluppare in Italia una infrastruttura allo stesso livello di quella che c'è in Norvegia in Svezia o in Finlandia è questo che mi mi preme chiederti non non abbiamo una diversità tale che ci impedisca di ad esempio elettrificare gran parte delle flotte perché mi sembra di avere letto che il vantaggio ci sarebbe assolutamente non dobbiamo assolutamente scartare anche l'elettrificazione della tutta le flotte di di trasporto di di merce di persone ovviamente perché ci arriviamo ci siamo già arrivati con filobush banalmente in Italia sono già tanti filobush abbiamo molto spesso il revamping delle flotte dei bus vedo il caso concreto a Milano per esempio la TM che si sta dotando sempre di più di parco di trasporto per una cosa importante sarà anche la consegna di merce quindi la smile nel quale stiamo vedendo sempre di più l'elettrificazione delle poste italiane per esempio o altri trasportatori locali per avere accesso al centro città saranno costretti ad avere una flotta non inquinante quindi questo è un aspetto molto molto importante non penso che la gente che è cittadina si lamenta del fatto che non c'è più in aria la puzza del diesel del trasportatore con il vecchio camion o che c'è il rumore del motore termico quindi stiamo incrementando la qualità di vito a livello per questo Virta si effettivamente porterà anche la sua esperienza della flessibilità sulla rete perché noi vediamo nel veicolo elettrico non soltanto un mezzo di trasporto però sarà anche un modo di apportare un servizio anche diverso alla rete elettrica quindi non vediamo soltanto come un consumatore di energia però lo vediamo anche come un mezzo di flessibilità quindi questa è una tendenza che è sempre più forte che vediamo sulla gestione delle batterie in generale ma c'è già al nord qualche esperienza di questo genere cioè di V2G no? assolutamente noi dal 2017 addirittura abbiamo già avuto le esperienze con gli operatori locali con i brand di costruttori di macchine e quindi l'esperienza di V2G o di flessibilità della rete abbiamo già nella nostra piattaforma già delle features che permettono di usarlo ecco questo è importante cioè voi sareste già pronti in qualche modo ad abilitare la bidirezionalità o comunque una flessibilità della ricarica in funzione dell'esigenza della rete un dialogo tra i piatti di ricarica e rete sì sì questo è un tema è un tema molto interessante e un vantaggio del veicolo elettrico rispetto al veicolo termico quindi questo sarà un elemento importante della mobilità elettrica e noi siamo già avanti e se non pronti a derogare dei servizi su questa per questa problematica o soluzione legata alla V2G V2H anche a livello abitativo cioè sempre di più piuttosto che usare delle batterie esterne useremo le batterie delle macchine come accumulo residenziale perché avendo una batteria di 50 kilowatt piuttosto che un accumulo di 10 kilowatt cioè usiamolo usiamolo e sfruttiamolo come deve essere sfruttato alla fine senti poniamo che io sia un fleet manager che sia interessato a utilizzare i vostri servizi il consiglio è partire direttamente da zero con voi oppure qualcuno magari avrà già qualcosa avrà già comprato magari delle wallbox eccetera cioè è meglio pianificare dalla partenza oppure è indifferente io ti direi indifferente perché la maggior parte dei nostri clienti comunque hanno già un'infrastruttura esistente già qualcosa che esiste molto spesso sono sempre meno le realtà che non hanno nessuna infrastruttura esistenza di ricarica quindi per noi è abbastanza uguale che partire già da un'infrastruttura esistente o partire da zero cambia poco alla fine perché voi offrite anche un hardware vostro ma potete integrare anche hardware di altri produttori assolutamente quindi noi integriamo cioè non siamo produttori di hardware in se stesso però integriamo dei prodotti che abbiamo già testati convalidati che usiamo su diversi mercati che ritroviamo anche a livello italiano ci sono i brand anche italiani tipo Alpitronic per esempio che è un nostro ottimo partner internazionale se noi usiamo Alpitronic è un'eccellenza eccellenza ho visitato anche Deiz ultimamente che è un brand presente anche in Francia in Spagna c'è Gevis che ho visitato quindi ci sono tanti eccellenzi italiane sul quale noi collaboriamo a livello internazionale Gevis collaboriamo già in Francia con loro abbiamo dei progetti in comune e quindi in Italia ovviamente abbiamo già queste esperienze con i brand importanti di costruttori di caricatori domestici nei CIO o in DCI bene bene io direi che le mie curiosità sono state soddisfatte se hai un messaggio da dire a un potenziale cliente prova a vendergli il tuo servizio sì 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 ma diciamo che 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 vietà cioè ribadisco il concetto e siamo un one stop shopping offriamo effettivamente la semplificazione di come dotarsi di un'infrastruttura di ricarica di ottimizzare un'infrastruttura di ricarica e soprattutto cioè ricavare tutta l'informazione tutte le le cose cioè l'informazione per ottimizzare il CCO che è una cosa fondamentale che noi riusciamo a fare addirittura anche attraverso gli API alcune aziende hanno CRM ERP data mining software di ottimizzazione eccetera eccetera noi riusciamo a collegarli tramite API e direi un punto anche importante che non abbiamo detto però c'è anche il livello di sicurezza siamo comunque su un discorso di transazione di acquisto di di energia quindi l'aspetto sicurezza è fondamentale quindi noi siamo certificati ISO 27001 e SOC2 quindi abbiamo un livello massimo di sicurezza a livello aziendale sulla nostra piattaforma e sui nostri process quindi questo è importantissimo di garantire una massima sicurezza anche ai nostri clienti se non sbaglio sono entrati in vigore anche delle norme europee riguardo alla sicurezza dei dati nella ricarica se non sbaglio perché lavorando con le amministrazioni pubbliche abbiamo anche clienti che sono amministrazioni pubbliche o sono grandi aziende che sono molto focalizzate su questi aspetti per forze dobbiamo assolutamente essere compliant per tutte queste necessità operiamo anche nella transazione di ricarica noi facciamo tutta la parte billing e rendicontazione c'è un discorso di soldi sottostanti ed è importantissimo di essere veramente compliant con tutte queste procedure di sicurezza va bene io ti ringrazio per il momento ricordo a tutti che il 5 novembre ci rivedremo per il nostro webinar quindi altre domande oltre quelle che ho fatto io le potrete rivolgere direttamente a Edward il 5 novembre con questo vi saluto grazie e arrivederci arrivederci ciao